Gli eco-reati finalmente sono puniti penalmente con severità, ha dichiarato il Presidente Nazionale di Lega Ambiente, Rossella Muroni, che ha aggiunto che tuttavia è necessario un cambio di passo. Noi ci colleghiamo in diretta con il nostro Matteo Parlato, che si trova a Rispescia, vicino Grosseto, dove sta seguendo l'incontro sugli eco-reati ambientali. Matteo, buonasera. Buonasera, sono qui a Rispescia, come hai anticipato, con il Ministro della Giustizia ed ex Ministro dell'Ambiente, Orlando. Allora, dopo tanti anni, gli eco-reati entrano nel codice penale. Che cosa cambia adesso? Cambia che ci sono sanzioni più dure per gli illeciti più gravi, che un tempo venivano sanzionati in modo assai lieve e spesso incontravano anche per questo la prescrizione. Ci sono misure che invece consentono le imprese che vogliono, tra virgolette, ravvedersi di farlo, evitando appunto sanzioni penali. E ci sono poi interventi che mirano a utilizzare una parte dei proventi, dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, per il risanamento e la bonifica. Si tratta di una legge attesa da moltissimo tempo che credo dia una risposta importante sia sotto il profilo della tutela dell'ambiente, ma sia anche sotto l'idea di competitività che bisogna costruire. Cioè si alza l'asticella e si colloca nel nostro paese su un livello di competitività basato su una più intensa capacità di utilizzare le tecnologie proprio per limitare il rischio di danni ambientali. Dunque, a maggio offendere l'ambiente è diventato un crimine, ma questo governo, oltre a questa legge, ha anche deciso di sciogliere il corpo forestale dello Stato, che era il corpo che aveva il precipuo compito di difendere l'ambiente. Il corpo verrà smembrato e i suoi uomini passeranno in altri corpi di polizia che non hanno proprio questa specializzazione. Secondo lei non c'è della contraddizione in questo? Intanto la constatazione dei reati previsti nella legge non è assegnato in esclusiva e non lo era al corpo forestale dello Stato. Poi il termine smembrato credo che non sia quello giusto. Ora si sta discutendo di dove collocare l'esperienza del corpo, mettendola in sinergia con altre polizie che avevano già svolto questa funzione nel corso degli anni. Vorrei ricordare che di ambiente nel nostro paese se ne è occupata da un lato alcuni nuclei specializzati della Guardia di Finanza, dall'altro il noi dei carabinieri e dall'altro ancora un'attività per quanto riguarda la tutela marina, le capitanerie. Andare verso comunque la costruzione di un unico soggetto specializzato che vada in questa direzione non credo che sia un danno all'ambiente ma credo anzi che sia un modo di affrontarlo sviluppando ulteriormente un percorso di specializzazione. Io le ho fatto questa domanda proprio perché i padroni di casa, l'Egambiente e molte altre associazioni ambientaliste hanno chiesto al governo di ripensare su questa decisione. Secondo lei il governo potrà sentire, potrà ragionare su questo? Io credo che comunque confrontarsi ed ascoltare sia sempre utile e giusto, credo che non si debba però perdere di vista l'obiettivo che è quello comunque di avere un corpo di polizia al di là di dove è incardinato che sia in grado di svolgere queste funzioni. Non credo che la questione fondamentale sia il ministero di riferimento, quanto piuttosto la capacità di non disperdere un patrimonio come quello del corpo forestale dello Stato che è stato fondamentale nel contrasto alla criminalità ambientale nel corso di questi anni. L'Italia ha anche un'altra particolarità non proprio bellissima, noi siamo molto lenti nei processi, secondo lei bisogna rassegnarsi o succederà qualcosa? No, non dobbiamo rassegnarci, non ci stiamo rassegnando, abbiamo fatto dei passi importanti in avanti per velocizzare il processo civile, prossima settimana daremo dei dati positivi per l'abbattimento dell'arretrato. Stiamo facendo dei passi anche per deflazionare il processo penale e stiamo lavorando per informatizzare entrambi gli ambiti. Naturalmente il gap accumulato in molti decenni non si recupera in un anno o due, però è importante cogliere la linea di tendenza e io credo che stiamo andando nella direzione giusta. Aggiungo il fatto che comunque stiamo costruendo anche una normativa che consentirà di evitare che alcuni illeciti particolarmente gravi non siano puniti a causa della prescrizione. L'allungamento dei tempi di prescrizione che si deve accompagnare però con una velocizzazione del processo su cui stiamo lavorando, è una risposta al rischio appunto di denegata giustizia. Grazie Ministro e da Rispescia vi restituisco la linea. Grazie Matteo. Parliamo di ecoreati, una legge rivoluzionaria ma che non ha le gambe per camminare se il processo non funziona. A dichiararlo il riferimento appunto alla legge che punisce gli ecoreati è Giancarlo Caselli, ora presidente del comitato scientifico sulla criminalità nell'agricoltura. L'ex magistrato è intervenuto alla festa di legambiente vicino a Grosseto. Ma sentiamo l'intervista realizzata da Matteo Parlato. Siamo qui alla festa di legambiente con il procuratore Caselli. Grazie. Procuratore avete definito questa una legge rivoluzionaria che fa entrare l'ambiente per la prima volta nella storia della Repubblica italiana nel codice penale. Certamente questa legge è rivoluzionaria perché prima reati a tutela dell'ambiente sostanzialmente non ce n'erano, qualche contravvenzione che faceva sorridere. Adesso invece c'è un complesso di reati che fanno parte del codice penale che sono davvero un'argine, una tutela efficiente degli interessi della collettività per quanto riguarda l'ambiente. Naturalmente non sempre il livello è ottimale come si vorrebbe. Possono essersi delle perplessità, delle incertezze. Si spera che la cosiddetta elaborazione giurisprudenziale assesti le cose nel senso migliore. Come sempre bisognerà fare un tagliando per vedere che ciò che eventualmente non va per il verso giusto sia rettificato. C'è sullo sfondo però un problema grosso che è quello del funzionamento del processo. Anche la legge migliore di questo mondo, questa è una legge decisamente ottima, rischia di non avere gambe per camminare se il processo non funziona. Bisogna far funzionare anche il processo nel nostro paese, questo è un altro buco enorme che dovrebbe essere colmato.